Tebe, quattro secoli avanti Cristo. Nei loro numi i greci veneravano la divinità più come simbolo di qualità terrene che in una chiara coscienza spirituale. Solo cinque secoli dopo, il cristianesimo recò agli uomini le luminose certezze dei suoi comandamenti. Adoravano la nuda bellezza ignorando il senso del pudore. Di questo concetto prevalentemente estetico risentivano di necessità le leggi morali. Ma anche allora un innato sentimento del bene e del male conduceva la sua eterna lotta nell'animo degli uomini. Tutto ciò che si offriva agli dèi nei templi diveniva sacro all'atto dell'offerta. Il rito iniziava sempre con un sacrificio religioso. Profittando dell'ira del cielo, quella notte stessa un essere audace e senza fede penetra inosservato in quell'uovo sacro. Nel tempio di Demetra, simbolo della fecondità della terra. E commette il delitto più grave, un atto di empietà. Siamo in docenti! Popolo di Tebe, un traditore, mi governa! Tebe sarà distrutta! Abra! 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 Grazie a tutti.